Ha frequentato un corso di primo intervento a scuola presso l'Istituto Tecnico-Tecnologico di Vini di San Severino Marche e subito ha messo in pratica quello che ha imparato. Siamo con Lorenzo Rossi e Luca Bennuri, due ragazzi che lunedì scorso si sono resi protagonisti di un fatto di cronaca, fortunatamente a lieto fine. Lorenzo, hai visto lunedì scorso, mentre uscivate da scuola, un uomo sul cilio della strada che non dava segni di vita? Ci siamo subito fermati, abbiamo chiesto se gli serviva una mano e hanno detto che si era accasciato per terra mentre faceva la legna. Lui ovviamente non poteva parlare perché in quel momento era stato in incoscienza, c'era un suo amico. Sì, ho parlato a un suo amico e gli ho detto che è successo. Mi ha detto che si è accasciato tutto un tratto per terra e io ho detto che in dando inizio a fare il massaggio cardiaco che sono in grado di farlo perché ho avuto il brevetto BLSD dalla scuola e quindi ho subito iniziato senza avere nessun dimore. Poi nel frattempo questo amico del signore continuava a restare in contatto anche con l'ambulanza perché lui sapeva più cose di me riguardo a lui. E quindi niente, ho iniziato questo massaggio e tutto un tratto cominciava a riprendere un po' a respirare. Però i soccorsi hanno portato il defibrillatore che è stato proprio fondamentale per la situazione. Ecco Luca, mentre Lorenzo stava facendo queste tecniche che hanno consentito di salvare una vita umana, tu di cosa ti occupavi? Io ho dato una mano con il traffico diciamo e poi ho messo il triangolo, prima la curva perché quest'uomo si trovava accasciato sul cilio della strada. Io avevo le mani legate perché non avevo frequentato questo corso, non potevo dare una mano ma ho ricambiato con... Con quello che potevi fare giustamente senza farmi... L'unica cosa che potevo fare era questo, chiamare... Anche chiamate l'ambulanza? Sì, insieme all'altro signore che sta... Sì, abbiamo chiamato l'ambulanza e sono arrivati subito i soccorsi. Ecco, quindi diciamo che alla fine, ricordavamo, la storia si chiude a lieto fine, il signore si trova ricoverato in ospedale, però le sue condizioni come sono? Le sue condizioni sono ottime anche perché si è ripreso abbastanza, grazie ai farmaci. Lo conoscerai a breve, speriamo. Sì, sì, a breve lo incontrerò e ci parleremo. Quindi una bella, diciamo, storia che nasce anche dalla possibilità che ti ha dato la scuola di frequentare questo corso. Sì, certamente, se non era per la scuola io nemmeno sapevo cosa fosse questo brevetto, però, diciamo, grazie ai professori e alla scuola che mi hanno insegnato che queste cose sono fondamentali, vitali per tutta la società, diciamo, per il bene collettivo di tutti, è opportuno che ognuno sia in grado di effettuare le tecniche di primo soccorso perché sono appunto vitali in questi casi. Ecco, ricordiamo anche una cosa, Lorenzo, che mi dicevi prima dell'intervista, che a breve ti iscriverai ad un corso? Sì, un corso del 118 sicuramente perché è molto importante secondo me, cioè alcune conoscenze ce le ho, ma altre è bene conoscerle a più approfondire. Esatto, benissimo, grazie quindi alla testimonianza di Luca Bennuri e Lorenzo Rossi che hanno davvero compiuto un bellissimo gesto, innanzitutto lo ricordavamo anche il nostro speciale che vi invitiamo a seguire, venerdì alle ore 22, poi seguiranno altre repliche, si sono fermati una volta che hanno visto una situazione di emergenza e oggi non è sempre facile e non sempre accade, quindi complimenti a tutti e due. Grazie mille. Grazie.